Salve a tutti. La legge 107 del 2015 aveva istituito la carta elettronica, la cosiddetta carta docenti, da 500 euro annui al fine di agevolare il personale docente nell'attività di aggiornamento e formazione professionale. Tuttavia questo bonus erogato dall'amministrazione era stato limitato solo al personale di ruolo, quindi escludendo una platea molto ampia di docenti, ossia tutti i docenti precari, che comunque contribuiscono annualmente a garantire la continuità del servizio scolastico nel nostro paese. Con una recente sentenza il Consiglio di Stato tuttavia ha ritenuto illegittima l'esclusione del personale precario dall'erogazione della carta elettronica da 500 euro. Il Consiglio di Stato infatti ha ritenuto che l'obbligo, il dovere di aggiornamento e formazione non possa ritenersi sussistere solo per il personale di ruolo, ma lo stesso debba estendersi anche al personale precario perché in caso contrario si violerebbe il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, visto che l'amministrazione dovrebbe pretendere che anche il personale precario abbia un'adeguata formazione e un giusto aggiornamento. Sulla base di questi principi quindi il Consiglio di Stato ritiene che la carta elettronica da 500 euro annui debba essere erogata anche al personale, non di ruolo. A questo punto si apre una prospettiva per tutti i docenti precari che nel corso degli anni hanno prestato servizio e ai quali non è stata erogata la carta elettronica per poter rivendicare l'attribuzione di questo beneficio sia per il futuro che per il passato. Infatti nei limiti della prescrizione potranno richiedere l'erogazione della carta docente quantomeno per gli ultimi cinque anni, quindi per un ammontare di circa 2.500 euro e tuttavia avviando una specificazione legale tenuto conto che il Ministero non certo spontaneamente si adeguerà alla pronuncia del Consiglio di Stato. Vedremo come si evolverà la vicenda. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.